Roma è la città più bella del mondo, questo lo sanno tutti, è inutile sottolinearlo. Roma è la meta di viaggio più desiderata del mondo, tutti lo pensano, forse tutti lo sanno, ma non tutti sanno che la cucina romana è la più desiderata e apprezzata nel mondo ed è uno dei principali motivi per cui i turisti italiani e stranieri tornano alla nostra città. Noi, titolari degli esercizi pubblici aderenti alla FIPE Commercio di Roma, ne siamo ben consapevoli e cerchiamo ogni giorno di migliorare l'accoglienza e i servizi che offriamo ai nostri clienti. Gli spazi esterni, i famosi Dior, sono diventati parte integrante dei nostri esercizi, nati a causa della pandemia Covid e oggi sono diventati una parte essenziale dei nostri arredi. Grazie a questi Dior abbiamo dato luce, abbiamo dato decoro e abbiamo dato anche sicurezza a tante strade, vie e piazze che altrimenti sembrano state buie e insicure. Sappiamo bene che comunque c'è un grave problema di abusivismo e malavolita dal quale ovviamente prendiamo le distanze. E' per questo che noi stiamo collaborando con l'assessorato al commercio per redigere un nuovo regolamento che speriamo venga approdato presto, che tenga conto delle necessità degli esercenti, che tenga conto del decoro della città e del rispetto che dobbiamo avere per i nostri cittadini. Basta tavolini selvaggi, basta la malamovita. Roma è un museo a cielo aperto che dobbiamo tutelare e dobbiamo rispettare. Un regolamento che dia certezza alle nostre aziende, basta la politica del medievo. Noi della FIPE Commercio di Roma ci siamo, faremo la nostra parte, per aiutare la nostra città, dei nostri monumenti e delle nostre aziende. Noi della FIPE Commercio di Roma